la potenza del sole in una mano letteralmente oggi torniamo con un unboxing quindi andiamo subito ad aprirla e vediamo cosa c'è qua dentro qua non c'è nient'altro allora se basta la sedia dovrò anche aggiustarla come leggete c'è scritto sansi sansi led è una luce led però è particolare perché è una grow light quindi è una luce adatta apposta per far crescere le piante e vediamo quale c'è ringraziamenti di aver preso la lampada dovrebbe essere la versione da 36 watt è enorme raga pesuccia pesuccia non pensavo questa è la norma questa è la lampada ho letto e visto che dovrebbe essere una delle migliori lampade sul commercio e inoltre come lampada diciamo rivoluzionaria o diverse dalle altre perché oltre avere uno spettro di luce completo che alle nostre piante serve quindi va a imitare molto bene la luce solare ci dà sia la lunghezza del blu del rosso ma ci dà anche a lunghezza del verde ci c'è da tutte le lunghezze quindi è una luce bianca non so se calda o fredda adesso lo vedremo e questi sono i bulbi led quindi è a led e sono montati su dei supporti dei piccoli dissipatori in ceramica pesa un botta pesa un botta sta roba no sono un attimo perplesso più che altro non so se il mio supporto per la lampada me lo tiene sto peso qua pesa un botto cioè si sfascia tutto cioè si muove l'attacco per farvi capire quanto pesa si muove l'attacco dentro ecco vedete che cosa vi dicevo pesa talmente tanto che non ci sta su porca miseria dovrò andare a realizzare un supporto più adatto comunque brucia è fortissima oh mio dio vi faccio vedere allora adesso spengo la luce vi faccio vedere l'intensità luminosa è un 36 watt quindi è molto luminoso ma alexa spegni la luce ok così e senza probabilmente non state vedendo niente ci sarà un po di luce del computer acceso ma nulla se accendo questa si illumina al giorno c'è raga è fortissima raga scalda scalda cioè raga è un non ho pa madonna madonna vedo tutti i puntini non ho parole è stra intensa c'è un'icona che non è dimmerabile tutte le solite cose vabbè le informazioni 36 watt 220 volt 425 mAh 50 Hz inizia a scaldare eh la ceramica ha un alexa cedì la luce e spegniamo questa che ok allora la ceramica ha un altissimo potere dissipante quindi hanno fatto un'ottima scelta e a quanto visto dai file del produttore praticamente hanno messo una due anelli di conduttore non so adesso se rame o qualche altro materiale conduttivo e hanno saldato direttamente i led sopra che il tutto è incastonato all'interno del dissipatore in ceramica qua c'è il dissipatore in ceramica qua ci sono i led e la plastichina protettiva poi il resto il resto la lampada in realtà è abbastanza plasticoso però va bene raga voi non potete capire quanto pesa cioè pesa un botto raga è stra pesante sta roba cioè non ci sta si muove all'interno cioè balla tutto che si sminchia tutto cioè non posso tenerlo su perché pesa troppo cioè punteremo questa qua sulle piante e faremo luce alle piante le piante dovranno essere molto più contente di avere un botto di luce in quanto comunque a camera mia rispetto al resto della casa è una delle stanze più buie perché è rivolta a nord si è rivolta a nord quindi essendo rivolta a nord poi ho una siepe perimetrale molto alta e non ci passa minimamente la luce poi ho un po' di basso le 5 e mezza dalle 4 alle 6 il sole che fa un po' di luce nella fascia qua a nord ma ho comunque delle piante molto grandi nella zona davanti che mi vanno a schermare quella poca luce che passa quindi veramente mi arriva tanta poca luce dentro questa stanza e non va benissimo per le piante quindi ho preso questa luce per aiutarle nella crescita e nello sviluppo poi vi terrò informati comunque caricherò tutto negli short tutti gli aggiornamenti però anche rigate le sciate quindi state attenti e niente ragazzi la potenza del sole in una mano letteralmente fortissimo niente raga vi ricordo i commentari iscrivervi e lasciare tanti like condividete a tutti e ci vediamo al prossimo video ciao 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 cheers ciao ciao